Picasso torna a Napoli da domani al 10 luglio, 100 anni dopo il viaggio dell'artista in Italia, si apre la doppia mostra Picasso e Napoli Parade, a Capodimonte e Pompei, a cura di Sylvain Belanger e Luigi Gallo. Capodimonte ospita nella sala d'abballo il sipario Parade, che è a Napoli per la prima volta. È la più grande opera di Picasso, una tela di 17 metri di base per 10 di altezza, conservata al Saint-Georges-Pompidou di Parigi. Con Parade, il pittore cubista torna alla sua prima ispirazione legata al mondo del circo. La mostra è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con la soprintendenza di Pompei, il Museo Re al Bosco di Capodimonte e il Teatro dell'Opera di Roma, e si tratta di un evento storico nel mezzogiorno. Picasso, con Parade, dimostra la sua passione per l'arte popolare napoletana. Picasso è sempre stato appassionato del teatro. A Napoli ha visto il teatro in 1917, l'ha visto dappertutto, il teatro era dappertutto, il teatro dei marionettes, i guignols e poi il teatro popolare. Questo è, credo, la cosa la più importante che dimostra che questa mostra, con 60 opere di Picasso, con la più grande pittura di Picasso mai fatta, che è questo sipario che si chiama Parade, per il Balletto Parade, ma che non è veramente sipario, perché se legge come una pittura, 17 metri di lunghezza, 11 di altezza, enorme, è entrato con difficoltà nella sala da ballo di Capodimonte e devo dire che questo incontro storico della sala da ballo, con questo meraviglioso decoro e il sipario, è una bellezza fenomenale. Grazie a tutti.